Oggi abbiamo proceduto a nominare il nuovo assessore, l'architetto Faraci Francesco, che sostituisce l'assessore Antonio Nizza, l'architetto Nizza, che purtroppo ha dovuto rassegnare le sue dimissioni per sopravvenuti impegni lavorativi. Da oggi l'assessore ai lavori pubblici, alla manutenzione e all'urbanistica sarà quindi l'architetto Faraci, a cui intanto desidero rivolgere i miei migliori auguri, il mio in bocca al lupo, affinché possa realmente servire questo territorio, questa comunità. La sua nomina è simile a quella che abbiamo determinato all'inizio con l'assessore Nizza, ovvero non è frutto di valutazioni politico-elettorali. L'architetto Faraci è un tecnico che quindi dovrà servire questa comunità e che dovrà aiutarmi a dipanare tutta una serie di soluzioni squisitamente tecniche che consentirà di poter offrire un'ulteriore opportunità di sviluppo al nostro territorio. Grazie.